500.000 dollari di patrimonio, più di 300.000 dollari investiti nei mercati finanziari. Sto parlando del portafoglio di Riccardo Zanetti, un portafoglio 100% azionario con ben il 34% esposto nei mercati emergenti. In questo video andrò a reagire al portafoglio di Riccardo Zanetti, quindi direi di iniziare subito. Cominciamo! Ciao investitore, sono Davide Pasetto, oggi andiamo a fare una video recensione sul portafoglio di Riccardo Zanetti, che stimo veramente tanto per tutti i contenuti che porta e soprattutto per la trasparenza nel portare contenuti di natura finanziaria che sono molto difficili da trattare, quindi tanto di cappello. Prima di partire però vi dirò come è strutturato questo video, sarà diviso in due parti, la prima parte tratterà i suoi investimenti finanziari gestiti da lui stesso, quindi non parlerò dei robot advisor, mentre nella seconda parte del video andremo a trattare la questione liquidità dopo il suo incidente, perché ha cambiato pensiero sulla liquidità da tenere in portafoglio e quindi è giusto effettuare un'analisi anche di questo tipo. Direi di cominciare. Ragazzi finalmente rieccoci, dopo un mese di pausa forzata ripartiamo con la rubrica dei miei investimenti dove condivido nel dettaglio tutto il mio patrimonio e alla fine dello scorso mese esso ammontava a 501.794 dollari, anche se in realtà tanto complimenti per il suo capitale, avere 500.000 euro alla sua età non è affatto banale, ma è tutto a merito del suo lavoro e della sua costanza, quindi è veramente da ammirare. Il primo mese in cui abbiamo sforato il mezzo milione di dollari era il mese scorso. Facciamo un passo in avanti e valutiamo subito quanto ha nei mercati finanziari. Andiamo. Il mio primo e più grande portafoglio è su Interactive Brokers, qui ho circa un terzo del mio patrimonio totale, suddiviso in due ETF, uno sui mercati emergenti e uno sui mercati sviluppati dove mensilmente accumulo 3.000 dollari per ogni ETF e come potete vedere dato che i mercati hanno avuto un rendimento positivo nel mese di luglio abbiamo avuto un over performance, mentre nel mese di agosto abbiamo avuto un under performance. Poi sempre all'interno di questo... Allora partiamo subito dai due ETF che va a accumulare ogni mese su Interactive Brokers. Riccardo può permettersi di accumulare 3.000 euro al mese per ogni ETF che è una cifra veramente enorme, sicuramente non è alla portata di tutti, andiamo ad analizzarli. Allora partiamo dal primo è un ETF emesso da Alixor che va a replicare l'indice MC World, quindi paesi sviluppati che vanno a replicare un 60% Stati Uniti, un 30% Europa e un 10% altri paesi tra virgolette occidentali come Regno Unito, Giappone, Canada, Australia. Questo ETF è il migliore che c'è sul mercato SNI. Se andiamo a effettuare una ricerca su JustETF che è il motore di ricerca che utilizzo sempre per andare a confrontare i vari ETF, si può notare come l'ETF di Elixor ad accumulazione in realtà non è tra i primi per quanto riguarda dimensione anche se ha veramente un ottimo TER. Se infatti lo confrontiamo per esempio con quello di iShares si può notare come in realtà a livello di spread è penalizzato. Infatti andiamo a prendere l'easing del primo, andiamo sul sito di Borsa Italiana, qua c'è la scheda che va a confrontare tutti gli ETF per quanto riguarda il loro spread. Andiamo a inserire l'easing e ricordiamoci che l'ETF di Elixor ad accumulazione ha uno spread dello 0,076%. Se andiamo a prendere invece adesso quello di iShares andiamo a vedere che in realtà ha lo spread dello 0,036%, quindi in realtà 0,04 punti percentuali in meno che non sono pochi, anche se il TER è leggermente più basso, si parla di uno 0,20 per quanto riguarda quello di iShares e uno 0,12 per quanto riguarda di Elixor. Quindi in realtà sul mercato se ne possono trovare di meglio ma è comunque un ottimo ETF sempre ad accumulazione, sempre a replica fisica con una buona dimensione. Il secondo invece è forse l'ETF più blasonato per quanto riguarda i mercati emergenti, i mercati emergenti che vanno a replicare una Cina che in realtà è stata sottopesata negli ultimi due anni, troviamo poi paesi del sud-est asiatico come Taiwan, India e Corea del Sud per poi trovare altri paesi BRICS come per esempio il Sud Africa, il Brasile, l'Arabia Saudita che entrerà a farne parte a gennaio. Il suo portafoglio per quanto riguarda l'accumulo è diviso 50-50, quindi 50 paesi sviluppati, 50 paesi emergenti. Forse è un pelino rischioso nel senso che andare a investire il 50% nei paesi emergenti è comunque un rischio. A livello statistico i paesi emergenti nel medio e lungo termine hanno sottoperformato i paesi sviluppati quindi comunque è leggermente un azzardo. Se si pensa che un ETF internazionale che va a replicare un indice per esempio un FTSE All World, un MC o il Country World Index ha una diversificazione per un 90% dei paesi sviluppati e per un 10% emergenti, vedere un 50-50 è piuttosto rischioso. Solitamente se ci si può permettere perché sia un capitale da reinvestire abbastanza elevato in un piano d'accumulo si può optare per un più moderato 70-30 se non si vuole comprare un unico ETF globale. Portafoglio delle azioni di Alibaba e di Meta, anche se per entrambe ho già dei punti di chiusura abbastanza vicini perché nel prossimo futuro voglio cercare di avere un approccio sempre più passivo per quel che riguarda i mercati finanziari quindi voglio cercare di eliminare le single stock e concentrarmi e spostare questa parte di capitale più che altro sul mercato degli ETF come i due su cui accumulo che ho citato precedentemente. Andando avanti scelta condivisa quella di abbandonare le single stock per aumentare il peso percentuale degli ETF e anche perché se vuole optare per una strategia completamente passiva questa diciamo è la strada che deve percorrere quindi si può benissimo abbandonare il percorso sulle azioni singole come Meta da Alibaba e focalizzarsi solo su gli ETF. Il mio secondo portafoglio è su Trading212 dentro il quale ho creato una torta a tema tecnologico che contiene diverse aziende su questo tema e se volete approfondire andatevi a riprendere il video che ci ho fatto. Comunque in questa torta tecnologico io accumulo 2000 sterline al mese e come potete vedere dato che il segmento tecnologico negli ultimi sei mesi anche grazie all'intelligenza artificiale è andato da dio ho avuto performance più che positive. Poi sempre dentro questo scelta saggio o meno quella di crearsi un proprio portafoglio per cavalcare il trend del tecnologico anche in questo caso non sono d'accordissimo in quanto sarebbe meglio comprarsi un singolo ETF con un indice ben prestabilito e testato da tempo come può essere un Nasdaq o per esempio un indice che va a replicare il settore tecnologico dell'intero mondo. Sono andato a confrontarli per vedere cosa cambia tra l'uno e l'altro in realtà molto poco, l'andamento è molto simile e sono parecchio correlati tra loro. In blu vediamo il Nasdaq e in rosso troviamo l'MC World Information Technology. Il grafico parte da settembre 2018 quindi in realtà l'orizzonte temporale di 5 anni si può notare che effettivamente l'andamento è molto simile sia che si sta sul Nasdaq sia che si sta su un Information Technology più globale quindi in realtà piuttosto di andarsi a comprare le azioni singole e andarsene a creare per conto proprio si può optare per un ETF e ci si toglie il pensiero. Questo portafoglio ha anche delle azioni di Malibu Boats e Tesla. In realtà per lo stesso motivo che mi menzionavo precedentemente è facile che tutto questo portafoglio nei prossimi tre mesi venga liquidato e che questo capitale venga utilizzato con un approccio più passivo anche se parte di esso verrà utilizzato per un progetto che se vi iscrivete vedrete in futuro. Andando avanti terzo portafoglio Trading 212 AISA. Questo portafoglio l'avevo aperto quando ero residente nel Regno Unito e mi permetteva quando ero lì di avere alcuna agevolazione. Comunque al suo interno due ETF su cui all'epoca accumulavo, uno sui mercati emergenti e uno sul mercato statunitico. Allora in questo portafoglio di Trading 212 cosa? Ha sempre lo stesso ETF che accumula su Interactive Brokers, quello sui mercati emergenti emesso dai share, quindi sempre ottimi ETF. Anche qua si può notare come l'esposizione ai mercati emergenti è molto molto ampi in portafoglio e poi ha un ETF emesso da Xtrackers che va a replicare l'indice MSI USA. In realtà è un falso Standard & Poor's 500. Se nello Standard & Poor's ci sono 500 società, questo indice ne ha circa 600 qualcosina in più. Anche in questo caso sono andato a confrontarli per vedere la differenza e anche in questo caso l'andamento è molto molto simile. Il confronto parte addirittura dal 2014 quindi abbiamo quasi 10 anni di comparazione. In blu l'Eshare l'S&P 500, in pratica in rosso l'MC USA. Quindi veramente la differenza è minimale. Lui va a replicare l'MC USA, quindi si va a sovraspore al mercato americano che comunque è un'ottima scelta. Si può comunque andare a comprare diciamo la prima potenza mondiale. E delle azioni di Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway, se non lo sapete, è la società di Warren Buffett che in realtà si trova all'ottavo posto per quanto riguarda la capitalizzazione di mercato di tutte le società quotate al mondo. Si parla di circa 800 miliardi di dollari, quindi veramente un colosso. Berkshire Hathaway molti la considerano un falso ETF in quanto è una società, una holding che va a investire in altre azioni, in altre società. In realtà non è proprio così, bisogna considerare che comunque è una società singola con tutte le complicazioni del caso. Andiamo a vedere un attimo il portafoglio dei Berkshire Hathaway tra virgolette gestito da Warren Buffett. Tanto gli andamenti che sono mostruosi. Negli ultimi 5 anni più 78%. Se si va ad aumentare l'orizzonte temporale lo si riporta dai primi anni 2000 fino ad oggi più 1000%, quindi veramente Warren Buffett è sempre il migliore. Andiamo a vedere il portafoglio. Troviamo per un 51% azioni Apple che comunque è sempre la società in realtà più capitalizzata al mondo con 2,7 trilioni di dollari, 2700 miliardi di dollari. Troviamo poi Bank of America, American Express, Coca Cola, Chevron, Occidental Petroleum, Kraft Heinz Company, Moody's Corporation e poi troviamo altre società. Con molte probabilità il capitale che ho all'interno di questo portafoglio lo sposterò sui due ETF che ho su Interactive Brokers. Andando avanti Rob Advisor su Newtme. Qua ci fermiamo in quanto abbiamo detto che trattiamo solamente la parte di investimenti che gestisce personalmente Riccardo Zanetti. Volevo però farvi vedere anche la parte riguardante la sua composizione di portafoglio i mesi a posteriori. Ora se andiamo a prendere il grafico a torta della composizione del mio portafoglio abbiamo ETF 39,6% in aumento del 2,5% dal mese di giugno, stock azioni 27,8% in aumento dello 0,8%, Rob Advisor 4,8%. Ok quindi il portafoglio è praticamente suddiviso per un 40% ETF e per un 28% azioni singole. Questa cifra è un po' elevata soprattutto per uno che non predilige la gestione passiva quindi sicuramente la parte di ETF ha senso, molto senso come ha già ripetuto più volte nel video che vada aumentata e che vada diminuita la parte riguardata le azioni singole che magari potrebbero stare sotto un 10%, quindi circa un 68% di portafoglio lo gestisce direttamente Riccardo tramite mercati finanziari tradizionali. La parte di cash è invece solamente il 5% ed è su questo che baserò la seconda parte del video. Andiamo quindi a vedere le sue considerazioni finali. Lo 0,1%. Qui un'ultima riflessione che voglio fare, insegnamento del mio incidente. Da tutta questa vicenda mi sono reso conto che ho bisogno di un portafoglio d'emergenza più capiente. In questo momento pensavo mi bastassero 15.000 dollari, sì in caso anche di questa emergenza mi sarebbero bastati, però vi posso garantire che quando ero ricoverato in ospedale, questi soldi più l'assicurazione, perché c'è da sottolineare ho anche un'assicurazione, comunque non mi davano la completa tranquillità. Sono comunque coperto al 100%, qualsiasi cosa sarebbe successa perché l'assicurazione copriva, però l'assicurazione nel caso in cui l'incidente non avvenga negli Emirati Arabi va a rimborso. Quindi dopo questo fatto mi sono fatto due conti e ho deciso di portare la mia liquidità minima almeno a 25.000 dollari, che comunque in realtà è ancora fuori regola dei tre mesi minimo, che tra l'altro spiego approfonditamente in uno degli ultimi video. Allora Riccardo come abbiamo capito aveva solamente una parte cash liquidità attorno ai 15.000 dollari, sicuramente per il suo capitale pari a 500.000 dollari è parecchio bassa e quindi dice che in futuro aumenterà la parte di liquidità e andrà a portarla a 25.000 dollari. A mio avviso è comunque una cifra parecchio bassa rispetto al suo capitale e soprattutto rispetto alle sue spese mensili. Infatti andando avanti nel video spiega di come le sue uscite mensili sono circa 9.000 euro per quanto riguarda il conto personale e 4.000 euro per quanto riguarda il conto aziendale. Quindi se andiamo almeno a moltiplicare per 3 questa cifra, 13.000 per 3 fa 39.000 dollari, arrotondiamo a 40, dovrebbe almeno avere 40.000 dollari di liquidità, che se rapportate a un 500.000 euro è meno del 10%. Ricordiamo comunque che Riccardo, con scelta ben consapevole, è già coperto a livello assicurativo, soprattutto per una persona come lui che viaggia molto è indispensabile, però già comunque 40.000 dollari possono essere una cifra minima per poi andare a rialzo fino a magari a un 6 mesi di spese, quindi all'incirca a un 80.000 dollari. Teniamo conto comunque che stia sui 40.000 dollari circa un 10% o un po' meno del suo portafoglio, magari una piccola parte va tenuta proprio in cash liquidità sul conto corrente ferma, l'altra però può essere utilizzata proprio come fondo emergenza, come lui parla. Prima aveva una liquidità tutta messa insieme, in realtà queste due voci vanno separate, quindi sarebbe meglio che il fondo emergenza magari venisse allocato in vari conti deposito, visto che adesso cominciano a rendere anche delle buone cifre. Si parla anche di conti che portano un interesse del 4-5% anno per un vincolo a 12 mesi, anche se ricordo che per un fondo emergenza sarebbe meglio che il conto fosse svincolabile, perché in caso di emergenza, come purtroppo il problema che ha avuto Riccardo, si può subito andargli a ritirare senza perdere eventuali interessi o senza dover andare a pagare penali. Ricordo però che alcuni conti deposito svincolati in realtà si permettono di ritirare il capitale, ma una volta che il capitale è stato ritirato si perdono in realtà gli interessi accumulati, quindi bisogna sempre leggere bene le condizioni contrattuali. Ad ogni modo, il fondo emergenza, quindi conti deposito che hanno un buon interesse, oppure titoli di Stato stando sotto i 12 mesi, in questo modo qua, anche se rendono qualcosina di meno, permettono di pagare un'imposta del 12,5% agevolata, piuttosto di un 26% che si va a pagare come imposta su appunto gli interessi generati dai conti deposito, inoltre permette di aumentare la diversificazione, perché sicuramente la solidità di uno Stato è maggiore di quella della singola banca, soprattutto se si va ovviamente a valutare dei buoni rating, quindi titoli di Stato al di sotto di 12 mesi, magari anche a 6-12 mesi, titoli di Stato che ovviamente una volta giunti a scadenza 6-12 mesi, si vanno a reinvestire in altri titoli analoghi, quindi si può fare, tra virgolette, questo giochino per mantenere un buon fondo emergenza, quindi auguro a Riccardo che oltre a diminuire la quota azionale che è in portafoglia a favore degli ETF che ha già, che sono comunque ottimi ETF, vada ad aumentare la sua parte dell'equidità invece di lasciarla tutta cash ferma, anche se sappiamo che Riccardo, visendo molto, ha diverse valute, quindi ottimo, magari vada ad allocarla in magari alcuni conti che gli permettono di ottenere un tasso di interesse e recuperare subito la liquidità, oppure in titoli di Stato a breve scadenza, visto che anch'essi, con l'aumento ovviamente dei tassi di interesse, stanno cominciando a erogare buone cedole o comunque troviamo titoli di Stato che hanno un prezzo di mercato sotto la pari e che permettono di essere rimborsati a 100 a scadenza, quindi si può guadagnare anche da questo differenziale. E questo tenetelo a mente quando mi date dei suggerimenti nei commenti, io ho anche un'assicurazione personale, due assicurazioni di viaggio e poi in questo caso c'è anche l'assicurazione del gommone, poi in realtà il portafoglio d'emergenza esiste anche nel caso io perda del lavoro, quindi ci sono un bel po' di discussioni da fare, un bel po' di argomenti. Se avete idee... Riccardo ha ribadito ancora una volta che in realtà a livello assicurativo è coparto, come ben sappiamo nella nostra piramide dell'investitore la base, il pilastro fondamentale, quello più basso, è dato prima dalle assicurazioni e poi dalla liquidità. Se si vanno a coprire questi due pilastri poi ci si può anche esporre qualcosina in più sui mercati finanziari aumentando leggermente il rischio. Quindi diciamo che Riccardo in realtà ha un buonissimo portafoglio, non abbiamo trattato tutta la parte riguardante il peer-to-peer lending, criptovalute e altri investimenti in quanto il tema di questo video era incentrato solamente su gli investimenti gestiti direttamente da lui e la parte liquidità con una bella riflessione per quanto riguarda il fondo emergenza. Direi che è tutto per questo video. Se questo video ti è piaciuto e vuoi che vada a parlare, vada a reagire ad altri portafogli di investimento, faccelo sapere nei commenti e lascia un bel like così andrò a replicare questo format.